Proseguono a Pordenone gli appuntamenti per il centenario Zanussi Electrolux. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 13 maggio alle 18 con una tavola rotonda che approfondirà il tema Tradizione e Innovazione, un rapporto necessario per l'impresa. L'appuntamento successivo sarà in Biblioteca Civica lunedì 16 maggio alle 18 con la presentazione di un libro, un libro speciale dedicato a Lino Zanussi. Qui abbiamo gli autori Nico Nanni e Piero Martinuzzi. Nico Nanni, perché rieditare questo libro? Nell'ambito delle varie iniziative per il centenario dell'azienda il Comune ha ritenuto opportuno ridare alle stampe questo testo che parla di un uomo affascinante come uomo e come imprenditore e lo sviluppo della sua azienda è contestuale allo sviluppo di tutta l'economia ma non solo, anche lo sviluppo sociale e culturale dell'area pordenonese. A Piero Martinuzzi, coautore del libro, chiediamo qual è l'eredità che ci lascia questo straordinario personaggio. Lino Zanussi ha lasciato un'eredità importantissima che è quella della percezione che tutti dovrebbero avere della centralità del lavoro. Però se vogliamo parlare di una cosa che forse non è abbastanza conosciuta ma che sicuramente ha lasciato tracce in città è stata la politica sociale. Attraverso una serie di iniziative che hanno riguardato il favorire della nascita di associazioni di ogni genere e tipo siamo arrivati ad una situazione che oggi porta ad avere circa 300 associazioni di sociali, culturali, di tempo libero, sportive una percentuale, una quantità che in altre città sicuramente non si verifica ed è un effetto della politica di quegli anni.